c'era da aspettarselo c'era da aspettarselo c'era da aspettarselo sono le otto e mezza e Marco non è ancora arrivato beh c'era da aspettarselo Ale sappiamo come è fatto Marco sempre arrivare quando vuole lui quindi c'era da aspettarselo c'era da aspettarselo sono le otto e mezza e Marco non è ancora arrivato beh c'era da aspettarselo Ale sappiamo come è fatto Marco sempre arrivare quando vuole lui quindi c'era da aspettarselo ciao